Il 16 settembre, avversari i turchi del Galatasaray. Fuori gioco di Daniel Fonseca. Trascorso intanto il primo quarto d'ora, sempre 0-0 il punteggio. Lancio in avanti di Di Lidio, De Piero. Prova De Piero, il cross. Inzaghi rovesciata rete! Straordinario gol di Filippo Inzaghi. La Juventus è in vantaggio al 17esimo del primo tempo ed è davvero un euro gol. Che bellezza! Una magica rovesciata, diciamo, una bicicletta di Pippo Super Inzagol. La nostra Coppa è cominciata in modo, direi, splendido. 20 minuti bellissimi nella prima partita in casa, un grandissimo gol di Inzaghi. E poi è cambiata la Coppa. Da lì in avanti noi abbiamo avuto un periodo, alcune partite in cui abbiamo spesso sofferto. Dobbiamo ammetterlo. L'abbiamo forse salvate alcune proprio con il cuore, con la volontà, con la forza. Ma certamente abbiamo trovato grosse, grosse complicanze. Il lancio di Ocana e lo scatto di Chukur che è in posizione regolare. Peruzzi ha fermato il pallone con le mani. C'è l'espulsione in arrivo. Eccolo qua, il cartellino rosso. Stavo cadendo. Di fatti noi quasi quasi con la serata li cadevamo. Dopo aver espulso il nostro porcerione, Peruzzi. In 10 contro 11 soffriamo. Il Galatasaray riesce addirittura a capovolgere il risultato, ma la nostra reazione è immediata. La Juve è viva. Si può pensare positivo.